La raggiunge nel negozio in cui lavora ed inizia ad aggredirla fisicamente e verbalmente. Un pregiudicato di 26 anni sottoposto agli arresti domiciliari vade per dare una lezione all'ex compagna. E' accaduto nel primo pomeriggio di sabato in un negozio del centro cittadino di Vittoria. Le manette sono scattate ai polsi di Giovanni Asonte, 26enne di Vittoria, pregiudicato. Nel primo pomeriggio di sabato la polizia è stata avvisata che presso un negozio del centro cittadino si era presentato un 26enne che aveva aggredito violentemente, verbalmente e fisicamente una ragazza di 22 anni che vi lavora. In soccorso della ragazza un altro dipendente che ha cercato di difenderla, ma l'uomo violento non ha esitato a colpire anche lui. Il 26enne dopo l'aggressione è tornato nella propria abitazione dove è stato raggiunto dalla polizia. Era in evidente stato di agitazione e presentava un taglio alle dita che si era procurato mentre utilizzava un oggetto in ferro all'interno del negozio. Non ha avuto remore a riferire agli agenti che era uscito da casa sua proprio per andare a dare una lezione all'ex compagna, che è mamma di un piccolo di tre anni, figlio dell'uomo e della quale è separato da circa due anni, che le aveva usato a sudire un torto pesante. La giovane e il collega del negozio sono stati medicati dai sanitari del pronto soccorso dove hanno ricevuto una prognosi di guerrigione di cinque giorni ciascuno per contusioni e traumi. Il 26enne è stato arrestato per evasione, ma le indagini proseguono in ordine ai reati di lesione personale ad entrambi gli aggrediti e volta la verifica della sussistenza del reato di atti persecutori che si configurano nel racconto della donna che è perseguitata da circa due anni e cioè dalla fine del rapporto di convivenza con l'uomo.